Adesso invece, sei da sola, ne manca uno? Sei nascosto? No. Non c'erano posti abbastanza? Ok, no, non c'è problema. Allora, qui adesso invece abbiamo una coppia, Design d'Elite, quindi abbiamo una designer più un ingegnere e stiamo parlando di design del prodotto in questo caso. Stiamo parlando di un design strutturato, quindi creazione proprio di prodotti, creazione di oggetti. Ho visto che nella parte espositiva avete usato praticamente solo il plexiglass e volevo capire perché avete usato questo materiale per fare degli oggetti che normalmente non sono fatti in plexiglass e qual è la linea che vi ha ispirato nella creazione di questa serie di oggetti? Allora, i nostri oggetti sono prettamente ibridi tra scultura e design. Abbiamo improntato questa linea per essere un pochino diversi rispetto a tante altre persone e concentrandoci in particolare sulla funzionalità e sulla forma. Premetto che sono molto emozionata. No, ma non c'è perché siamo tra amici, quindi... Ok. Design d'Elite è una divisione di studio Archimede. Studio Archimede è uno studio di architettura, ingegneria e ci siamo concentrati, più che altro abbiamo voluto sfidare un pochino questa parte qui e concentrandoci appunto a fare questo tipo di materiale, cioè sfidando questo materiale. Perché? Perché è un materiale duttile, che si prestava moltissimo a parecchie cose e in particolare perché il materiale, essendo trasparente, rispecchiava molto la nostra personalità. Io mi ritengo una persona piuttosto trasparente ed è stato proprio quello che mi ha ispirato. Tant'è che tutto ciò che realizzo sono frutto della mia fantasia, invenzione. Questa è la parte, diciamo, più... C'è, visto che avete lavorato in due ambiti completamente diversi che a volte non si parla, non lo so perché anche io ho una formazione ingegneristica. Ah, ecco. Io sono il doppio, quindi unisco tutti e due. Però, viene prima la parte creativa e poi viene l'ingegnerizzazione del prodotto oppure partite da un'idea e cercate di svilupparla, di portarla fino in fondo senza interromperla in due fasi? Le dirò una cosa. Io solo rispondere e vieni pure. cosa può mancare, cosa può mancare nel mercato. Poi la forma, poi la funzione. In realtà entrambi poi si combinano. La domanda che spesso ci poniamo, sia io che l'ingegnere, quale mio marito, è questa. Quindi ha una doppia valenza. Ha doppia valenza, sì. Non può scappare. No, non può scappare. Quindi anche lui è... Sì, diciamo che la prima cosa è la funzione e poi viene la forma. La scelta dei materiali, a parte questa parte in plexiglass, come viene implementata? Cioè, pensate ad un oggetto e poi ricavate il materiale oppure, e di conseguenza tutti i calcoli per cui questo sia stabile e ingegneristicamente valido oppure usate un'altra metodologia? No, no, pensiamo. Innanzitutto, vabbè, l'idea. L'idea nasce in primis e poi si butta, c'è la bozza progettuale e con l'aiuto appunto dell'ingegnere riusciamo a capire appunto se il prodotto può postare. Quindi ci sono dei veri e propri calcoli statici. Tant'è uno dei prodotti che all'inizio, il primo prodotto che abbiamo realizzato è stata la seduta Eternity, che è una seduta multifunzionale perché in questo caso funge anche da portariviste. Che possiamo vedere giù sotto. Che possiamo vedere giù sotto. E quella lì prima di realizzarla è stata appunto una vera e propria sfida anche perché non sapevamo come riuscire con un'unica lastra avvolta su se stessa a poterla appunto sostenere e mantenere. E attraverso dei distanziali sempre creati in plexiglass siamo riusciti semplicemente ad ottenere questo risultato. Il secondo prodotto che è stato altrettanto una sfida è stato il servomuto IEM, più groccia. Anche lì, nella sua semplicità e nel suo design minimale abbiamo dovuto comunque... cioè attraverso il prototipo siamo riusciti a capire se poteva automantilizzare. C'è stata proprio una campagna di test. Sì, 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 una campagna di test. Quindi comunque i calcoli, diciamo calcoli, in questo caso ci sono. Se non funziona è colpa sua. Colpa sua. È sempre colpa degli ingegni. No, no, ci mancherebbe. Va bene, grazie mille. Grazie. Adesso invece...